De Paul prova a servire Maxi Lopez con un traversone. Rischia Cepitelli. Che anticipa l'argentino rifugiandosi in corner di testa. Ci prova Pavoletti da fuori area, pallone respinto da Bizzarri. Abbiamo intanto superato il trentesimo minuto, resiste il pareggio. Gioaio Pedro sbaglia un appoggio sulla trequarti masvirgola Angela, che riesce a servire Bizzarri. Grandissimo intervento di Bizzarri su Gioaio Pedro. Il portiere ha fatto una grandissima parata. Grandissima occasione per Pavoletti, che trova ancora la grande risposta di Bizzarri. Padoin non trova barella per un soffio, ne approfitta la retroguardia friulana, che libera l'area. Termina la prima frazione, squadre a riposo sul risultato di 0-0. Grande protagonista Bizzarri, che ha salvato più volte i suoi nel finale. Aghi. Umberto Tessier. Maxi Lopez spreca. Inizia il matca tra Udinese e Cagliari. Calcio d'inizio battuto dalla compagine friulana. I padroni di casa subito riversati in avanti. Brutto intervento di Andrea Olli superica. Poteva starci il giallo. Ci prova Ionita in area dopo la punizione di Cigarini, palla che termina sul fondo. Botta da fuori di Barak, Rafael Mura centralmente la conclusione. Sulla respinta Maxi Lopez si divora un gol praticamente già fatto. Pavoletti ci prova di testa, ma non inquadra allo specchio della porta. Arriva il primo giallo del matca ai danni di Angela per fallo su Gioia e Pedro. Pelica prova a concludere a giro con il destro dal limite, si immola Ionita, che riesce a amurare la conclusione. Siamo intanto giunti al 20, e il matca non si sblocca. Meglio l'Udinese per ora contro il Cagliari in difficoltà? Aghi. Umberto Tessier